sentire la gente che gode che ci sono quelli che godono già già sento e vedete che colpa di quel colpo di quell'altro vedete che abbiamo vinto a culo gli europei alt 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 allora è finita la magia finita la favola sconfitti 2 a 1 in casa a san siro e lì mi girano un po le palle un po le palle quello sì perché comunque c'è in finale finale in casa dispiace perdere poi vabbè inghilterra presso gli europei praticamente in casa perciò anche lì ormai il campo conta fino a un certo punto però vorrei comunque fare i complimenti alla squadra diciamo che alla fine eravamo in 10 praticamente tutto secondo tempo in 10 quantomeno un contropiede è riuscito a sfruttarlo per segnare anche se in signa in signa davanti al portiere prendo un gol assurdo un gol fatto in primo tempo non sofferto tanto sulla fascia destra ogni cross era un pericolo fatto sta che due cose fatte da due cross e poi per il resto mia donna rumma poi la fischiara ci sono quei tifosi cazzoni tifosi sono dei tifosi cazzoni perché va bene o che che magari è stato un traditore perché la mina è andato il PSG per mangiare più soldi gli fai lo striscione a donna rumma va bene tutto però non puoi fischiarlo cazzo stiamo cioè sta giocando con l'italia boh basta cioè se lo fischi lo fischi in un'altra situazione non mentre queste partite qua cazzo con la nazionale con la nazionale dovrebbe azzerarsi tutto anch'io bonucci e chiellini mi stanno sul cazzo se mi mi stanno sul cazzo eppure gioco nel nazionale che devo fare non un tifo nazionale le solite discussioni solite cose che alla fine non ci si può ragionare perché uno non pensa in un modo non pensa in un altro comunque lì purtroppo il tifo del club a volte sovrasta il tifo della nazionale in sé comunque ragazzi possiamo dire che anche l'arbitro non è che abbia arbitrato poi così bene perché decisioni un po troppo troppo sbilanciate a volte troppo esagerato a volte non fischiava certi falli che dice boh a volte li fischiano ed effettivamente per i falli che ha fatto la spagna nel secondo tempo soprattutto verso la fine cioè se dalla munizione a bonucci la seconda munizione a bonucci per quel intervento lì col gomito perché non lo dai anche a loro cioè non sono arbitraggio un po adesso non è che mi vengono attaccare all'arbitro però però poteva arbitrare forse un po meglio quello si può anche dire alcuni cartellini andati anche alla spagna per carità però in certe occasioni forse poteva far di più poteva far di meglio l'esposizione condizionato la partita perché avessimo giocato 11 contro 11 secondo me poteva andare diversamente magari perdavano lo stesso per carità però magari potevano creare forse più occasioni e ha sballato un po i piani a mancini mancini che anche lui forse un po di colpe ne ha perché bernardeschi falso 9 bernardeschi falso 9 ma lo deve spiegare bernardeschi falso 9 poi bernardeschi mi deve spiegare non non bernardeschi falso 9 bernardeschi mi deve spiegare sto giocatore qui non che chi ne abbia fatto meglio alla fine per carità perché comunque gira che ti rigira però comunque comunque bernardeschi si ha fatto anche da quell'occasione lì è preso il palo poi che ha fatto niente nullo nullo e centrocampo abbiamo sofferto un casino giurginio male malissimo per ratti idem barella ma alti e bassi ma più bassi che alti insomma abbiamo sofferto a centrocampo abbiamo sofferto sulle fasce abbiamo sofferto un po ovunque diciamo che poteva finire poteva finire peggio poteva finire 3 a 0 aveva l'occasione di marco saloso lì e poteva chiudere dare il colpo di grazia in realtà finita 2 a 1 abbiamo avuto addirittura il gol della bandiera peccato peccato negli ultimi minuti che non siamo riusciti a sfruttare diciamo l'onda della l'onda della possibile rimonta ma non ci chiedeva nessuno era quanto era quanto impossibile ci voleva ci voleva forse un'espulsione da parte di un giocatore dalla spagna per equilibrare un po le la situazione però ragazzi vabbè guardiamo avanti è finita la magia è finita è finita l'estate quindi cambiano io mi sono messo di nuovo nella stessa posizione sul divano questa posizione la parte sinistra mi sono seduto quasi tutta l'estate ma non è servita niente il talismano non ha funzionato ma perché perché cambia la stagione no quindi cambia cambia tutto comunque domenica c'è la finale terzo quarto posto forse contro il belgio contro la francia se va un cazzo vabbè è un nation's league non è l'europeo però è sempre una coppa una ciliegina è una specie di super coppa che non è poi una super coppa europea ma che non è poi una super coppa europea perché alla fine incontri squadre le prime delle altre gironi delle altre gironi di nation's league sono tutto un gioco peccato perché poi si va a interrompere anche un'imbatibilità di 37 partite nel giro di due tre anni vabbè ragazzi e io prima o poi devo recapitare sinceramente ovviamente preferivo per fisico perdere questa che perdere europeo ma quello non su quello non ci piove però dispiace un po perché sei in casa e da un po fastidiello da un po di fastidiello e a meno arrivare in finale però adesso il terzo quarto posto giochiamo a torino contro belgio francia ben figlio fare un italia francia torino figata sarebbe ben italia francia la belgio no 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 sinceramente più rischio dalle france piuttosto almeno e poi finale belgio spagna insomma saranno delle belle partite però ragazzi vabbè guardiamo avanti e ora tanto comunque ci sarà sempre poi il capo respiratorio dopo di quello dopo di quell'altro è andata così è una strada un po storta l'espulsione ha dato diciamo un brutto andi alla partita poi vabbè ogni partita ha i suoi episodi si sa ragazzi va bene così dai va bene così e alla fine non possiamo lamentarci abbiamo un trofeo comunque in bachea quest'anno e che trofeo europeo e quindi ragazzi e quello fa un attimo sorridere l'unica cosa che mancini non capisco effettivamente perché sto bernardeschi perché perché effettivamente pellegrini poteva essere buono già da prima poi vabbè pellegrini è da un po che non gioco in nazionale perché ha avuto il suo infortunio però certe scelte tecniche non le ho capite più di tanto però vabbè ragazzi non stiamo lì a puntigliare ormai è andata così devo andare così accettiamo questa sconfitta guardiamo avanti facciamo questa finalità del terzo rotoposto e poi penseremo al prossimo mese qualificazioni mondiali che anche lì vorrei qualificarmi con calma per favore e poi mondiali prossimo anno si vedrà si vedrà ragazzi allora presto sempre forza azzurri ragazzi è stata una grande annata non possiamo anche al di là di come è andato il risultato stasera ma alla fine va bene così va bene ce la facciamo andare solo perché abbiamo vinto l'europeo perché non abbiamo vinto l'europeo lì casini cosa vabbè ragazzi finita la magia e noi ci vediamo prossimamente mi raccomando statevi bene sempre porta azzurri a presto ciao